Ciao, benvenuti su Mondo Cosmetic. Allora, è da tantissimo tempo che non ci vediamo e mi siete mancati tantissimo. Per me questo è un po' come se fosse il mio primissimo video. Sono cambiate tantissime cose dall'ultima volta che ci siamo visti e quindi vi volevo aggiornare un pochino e raccontarvi anche le novità che ci saranno sul mio canale. Allora, ci siamo visti l'ultima volta e vi ho raccontato, anzi mi avete seguito, nel mio percorso in Yves Rocher, nel mio amato lavoro da capogruppo. E come vi dicevo sono cambiate un pochino di cose ultimamente. Una di queste è proprio che non sono più capogruppo Yves Rocher. Ho deciso di lasciare questo mio meraviglioso percorso a malincuore perché comunque è un'azienda che porto sempre nel mio cuore, che continuo ad amare tantissimo e che farà sempre parte della mia vita. Però era arrivato il momento di cambiare un pochino quello che è il mio percorso perché durante questi anni, motivo anche della mia assenza, sono cambiate un pochino di cose. Allora, iniziando questo lavoro con Yves Rocher e quindi iniziando anche a fare eventi, a avere più contatto con le persone, ho deciso di dedicare più tempo a quella che è sempre stata la mia passione primaria e cioè il make-up. Quindi diciamo che mi sono dedicata allo studio, alla formazione, continuando ovviamente sempre il mio lavoro con Yves Rocher e come vi dicevo appunto ho frequentato un'accademia, mi sono formata e sono diventata un'amica artist. Da lì però ho capito che c'era tantissimo altro ancora che io insomma potevo fare, che potevo esplorare, che potevo studiare e quindi sono iniziata una serie di percorsi formativi. Quindi ad oggi sono molto felice perché sono un'amica artist, come vi dicevo prima, quindi dopo l'accademia ho continuato e continuo tuttora e continuerò sempre a formarmi, quindi ho fatto anche dei focus formativi oltre l'accademia. Sono un'estetista, mi occupo di unghie, quindi un'onicotecnica, ho fatto anche l'accademia per diventare unicotecnica e sono una massaggiatrice. Quindi capirete bene che tutta questa dedizione alla formazione, l'attenzione, tutto quello che comunque comporta questo settore, mi ha diciamo comunque un pochino allontanata da quelli che erano i miei impegni lavorativi con Ivorushin. E sicuramente io sono sempre stata una persona molto attenta e molto proprio di cuore quando lavoro e quindi non mi sembrava il caso non riuscire a dare più tutto quello che davo prima diciamo alle persone che si erano affidate a me, che facevano parte del mio team, le mie adorate amiche, per cui ho preso la decisione di dover prendere un po' più di tempo per me stessa, per la mia famiglia, per il mio lavoro nuovo, per tutto quello che comunque è formazione, perché anche in questo momento continuo a studiare, perché sto facendo l'ultimo anno diciamo per diventare estetista specializzata e ovviamente non mi fermerò qui. e quindi mi sembrava veramente poco corretto nei confronti delle persone che si erano affidate a me diciamo non riuscire a dedicare più tutto il tempo che ho sempre dedicato loro nella formazione, nel seguirle passo passo, nei consigli, nel cercare persone che volessero entrare a far parte del mio team. per cui è subentrata insomma questa decisione che veramente è stata presa a malincuore e ho anche pianto, non mi nascondo, quando ho deciso di dare le dimensioni dal ruolo di capogruppo. A seguito di questo sono successe comunque tantissime cose, avevamo un progetto di cui avevamo, perché io e mio marito avevamo un progetto da tanto tempo, che per una serie di motivi abbiamo sempre dovuto rimandare, però finalmente siamo riusciti a realizzarlo, a renderlo concreto, per cui diciamo che sono molto felice anche perché siamo riusciti a mettere online il nostro sito e-commerce di prodotti dedicati alla bellezza. Sul nostro sito che si chiama RealMood, quindi se volete dargli un'occhiata a www.realmood.it, ve lo disegno tutto nell'info box, o meglio in descrizione, troverete dei prodotti che io utilizzo sia per uso proprio personale, ma anche a volte alcuni dei prodotti anche per uso professionale. Il sito è veramente nuovissimo, siamo online da settembre e ci aspettano veramente tantissime novità, tantissimi brand nuovi, quindi stiamo andando piano piano, stiamo dedicando il giusto tempo anche a quello, abbiamo voluto fare tutto nella maniera più corretta e limpida possibile, quindi siamo piccini piccini piccini, sia sui social che diciamo proprio come realtà commerciale, per cui spero veramente che mi seguirete anche in questo percorso, e anzi mi invito a farlo, e quindi diciamo sono veramente, veramente, veramente felice. Detto questo, è arrivato il momento di riprendere in mano Mondo Cosmetic, che è la mia prima creazione, nel senso che è proprio il mio primo progetto, che è nato per chi volevo divertirmi, per chi volevo condividere con voi quello che mi piaceva, poi si è trasformato un po' in un canale dedicato ai brusci, e adesso ritorna ad essere un canale dedicato sempre e comunque alla bellezza. Quindi insieme cosa faremo adesso sul nostro canale? Testeremo insieme dei prodotti, tutti i tipi di prodotti, non solo quelli che troverete sul RealMood, perché ho deciso di lavorare in simbiosi con Mondo Cosmetic e RealMood, ma comunque riuscendo a mantenere anche una certa distinzione tra le canali. Quindi sicuramente su Mondo Cosmetic troveremo tutti i video dedicati ai prodotti, anche più commerciali, quelli più professionali, vi parlerò insomma di quello che mi piace, di quello che non mi piace, vi farò dei piccoli video dedicati agli acquisti, prodotti terminati, insomma tutto quello che ha a che fare con un canale, che così si deve chiamare, questo deve essere un canale dedicato alla bellezza. Non mancheranno, ho intenzione di fare dei video dedicati anche a dei piccoli video tutorial, non farò video dedicati a tecniche accademiche, perché non credo che sia il caso, perché credo che siano cose che si studiano in Accademia, però sicuramente ci divertiremo insieme a provare prodotti, sfumare, creare dei look, quindi creare un po' dei contenuti dedicati. E soprattutto appunto questi videetti carini di un trucco in 5 minuti, come sovrapporre i colori, come accostarli, qualche tecnica un po' più facile da fare a casa, insomma ci divertiremo in questo senso. Mentre invece su RealMood, che vi invito anche a iscrivervi al canale di RealMood, YouTube ovviamente, troveremo insomma invece di video, ancora non c'è nulla, quindi è veramente nuovo, 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 ci saranno dei video invece dedicati ai prodotti, che ci saranno sul sito, con qualche contenuto dedicato, e anche lì qualche tutorial, qualche diciamo soprattutto chicca, per capire i prodotti, come possono essere utilizzati in maniera differente, quindi insomma anche lì ci saranno un bel po' di contenuti, però soprattutto dedicati ai prodotti, che trovate sul sito, e sul sito mi ricordo RealMood.it, ci saranno anche dei contenuti nel blog, che trovate sempre tutto nel sito, dove ci saranno degli articoli, tutto curato da me, i contenuti diciamo che troverete sui social, quindi Instagram e Facebook, insomma niente, iniziamo a dare vita di nuovo, a quelli che sono sempre stati i miei progetti, e vi chiedo scusa per essere mancato tutto questo tempo, sempre se vi ne siete accorti, perché poi sei pure che non ci avete neanche fatto a casa, però io ci tenevo a riprendere in mano il canale, però come vi dicevo, io quando lavoro cerco di farlo nella maniera più precisa possibile, e quindi anche nella formazione, ho deciso di dedicare il giusto tempo, ovviamente sacrificando alcune delle mie passioni, un po' del mio tempo libero, dedicando veramente me stessa, a quelli che erano i miei progetti, però ci tenevo a spiegarvi anche il motivo per il quale ho lasciato i brochets, detto questo, se qualcuna di voi ha bisogno comunque di consigli, per quanto riguarda il lavoro di brochets, oppure ha bisogno di qualcuno insomma che vi inserisca nel mondo i brochets, io sarò sempre felice di aiutarvi, perché comunque ho tantissime colleghe, la mia responsabile in primis, che comunque vi può aiutare, e veramente entrerete in un mondo meraviglioso, vi ripeto, io l'ho lasciato semplicemente perché sono subentrati nei nuovi progetti, e proprio mancanza di tempo a tutti gli effetti, ma veramente perché tra Accademia, la mia piccolina, la mia famiglia, la casa, lo studio, il lavoro, ovviamente diventava difficile, e poi la realizzazione, anzi la concretizzazione del progetto con mio marito, Rimood, ha comunque appreso tanto tempo, tante energie, c'è tanto lavoro dietro, quindi non potevo fare altrimenti, quindi sicuramente vi farò vedere anche dei prodotti di brochets, perché comunque quelli li utilizzo, li utilizzavo prima, li utilizzo sempre, li utilizzerò sempre, quindi faranno comunque parte ancora del canale, però in maniera differente, niente, vi volevo aggiornare su questo, e spero che continuerete a seguirmi, e se sei la prima volta che sei venuto sul mio canale, iscriviti, perdona l'unghietta, ma è una prova, infatti vedete è l'unica, spero che vi iscrivete al canale, attivate la campanella, e iniziamo a rendere questo canale reale, qualcosa di concreto, di strutturato, che possa ogni giorno, anzi ogni settimana, diciamo per i video per il momento, essere vero, quindi scrivetemi nei commenti, ogni volta se avete voglia di vedere un contenuto, piuttosto che un altro, insomma datemi anche voi i vostri consigli, insomma niente, divertiamoci insieme, e sono veramente contentissima, di aver ripreso in mano Mood Cosmetic, che è veramente il mio primo amore, spero vi seguirete nel progetto di Real Mood, anzi approfitto per dirvi, che se andate sul sito, e vi iscrivete alla newsletter, da subito al 10% di sconto, sul primo ordine, quindi riceverete un codice sconto, che appunto, vi dà il diritto al 10% sul primo ordine, ma già sul sito, trovate tanti prodotti, tutti scontati, quindi, se vi va, di dargli un'occhiata, mi farà piacere, mi fa piacere, e se mi seguite anche appunto su Real Mood, sarò veramente felicissima, grazie, perché comunque, in tutto questo tempo che sono mancata, molte di voi mi hanno contattato, chiedendomi perché non facevo più video, mi hanno contattato in privato, vi siete continuate a iscrivere al canale, ma io spero che questo sia solo l'inizio, per me questo è un nuovo inizio, un po' più serio, un po' più professionale, e niente, spero che, come vi ho detto prima, mi continuerete a seguire, vi mando un bacio enorme, scusate sempre le paperette, mentre faccio il video, ma io sono spontanea, e niente, vi mando un bacio grande, 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 ciao ragazzi!